Sono Margie McClintock, dei duri a morire. Ironico. Pensavamo che le nostre vittime avrebbero tremato davanti a un nome del genere. Ma adesso sono tutti disperati quanto noi. Quando ogni scontro significa vita o morte, la gente corre dei rischi, reagisce. Perciò dobbiamo uccidere anche gente innocente. Ma non io. Per quanto questo mondo faccia schifo, non voglio abbassarmi a tanto. Tutto il discorso dei predoni è malato, disumano. Distruggerò quella stupida parte di codice. Quei bastardi non meritano i loro tesori. A meno che non si diano una regolata e la smettano di giocare agli assassini. Se mai dovesse accadere, Vincent sa cosa fare. Forse avrà più successo di me. E ora... E ora... Me ne andrò. Ingoierò... Qualche pastiglia. Sì, voglio andarmene così. In pace. Senza dolore. Fine. Ci vediamo presto, Arland, amore mio. E' passato troppo tempo. E' passato troppo tempo.